Scusate, e sono ancora io, ma soprattutto voglio ringraziare al cesenatico e un gruppo anche, ma soprattutto 5 ragazzi, ma soprattutto uno è proprio un campionato al mondo, ma bravi ragazzi, voglio fare i miei complimenti, ma soprattutto tutti i miei compagni, tutti gli amici, ma soprattutto questa è una cosa più bella e voglio ringraziare anche la mia mamma perché è presidente della palestra, ma soprattutto una famiglia sportiva e soprattutto voglio chiudere qua perché e soprattutto voglio ringraziare tutti, anche la Ferrusca e anche mio amico, mio amico di più e voglio ringraziare tantissimo, ma tantissimo Sergio, ma soprattutto è una cosa più bella e poi anche voglio ringraziare tutta la palestra per le buracce, le bici, bici, yoga, con le bici, così, Atonella e Marco Franzoni e voglio ringraziare anche Buraccia, Buraccia, le magliette di Visa delle femmine, con soprattutto i maschi anche per una maglietta della palestra e loro e soprattutto, bravi ragazzi, andiamo avanti tutto l'anno e ma soprattutto andiamo e anche dati che figuremati e voglio ringraziare anche grazie a tutti. andiamo a tutti per la riguardo a tutti i due uomini, grazie a tutti! e io voglio ringraziare anche far l'aria sicura, questa è molto bella ma Grazie a tutti.